Buongiorno, vediamo oggi cosa ci dice l'oroscopo. Arriete, non abbiate paura di avere coraggio nell'affrontare una situazione che con il tempo potrebbe degenerare. Toro, meglio per voi se manterrete la calma, soprattutto in amore. Gemelli, in amicizia avrete qualche piccolo contrattempo, soprattutto se siete nati di mercoledì. Cancro, non siete disposti a tollerare molto gli altri, siete facilmente irritabili. Leone, non rimandare a domani ciò che potrete fare oggi, datti da fare di più. Vergine, i vostri sforzi, per quanto intensi, si dimostreranno purtroppo deboli e poco determinati. Bilancia, ascoltate di più chi vi sta accanto, potrebbe avere bisogno dei vostri consigli. Scorpione, l'amore va per il meglio, ma è sul lavoro che ci sono le vere preoccupazioni. Sagittario, possibili novità in arrivo per posta. Capricorno, favoriti viaggi e spostamenti. Acquario, cerca di frequentare solo amicizie che ritieni veramente affidabili. Pesci, se vi sentite in difficoltà, è il momento di aprire il cuore alla speranza. Questo è tutto, a domani con il prossimo appuntamento dell'oroscopo. Grazie. 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 Grazie.